no a a a a a a a a a ecco qua l'avete preparato la base? ecco qua si 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 è lei penso di si vediamo un attimo si 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 è lei penso che è lei vediamo a 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 livello giornalistiche signori l'unico il mito il fresco ok ci provo dai lo faccio per te per te per te per te per tutti eccolo qua che sta spessarelo lui vuole un forte applauso dai un forte applauso ancora di più se no non sta eccolo qui per te bolide ah 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 Aggiungo pra da te Davai felici a me Tu la ragazza de mis ogni Tu so tanto do Che volemo noi Que namorate noi Ti amo sai Se canti tu Per sempre tu Se pensi a te Se pensi a te Tutta vita non così Tu la ragazza mai Si è importante Tu la ragazza mai Se pensi a te Se pensi a te Aggiungo da te Aggiungo da te Aggiungo da te Se pensi a te Se pensi a te Se pensi a te Se pensi a te Tutta vita non è così Non ti la ragazza mai Se pensi a te Se pensi a te Tutta vita non è così Non ti la ragazza mai Non ti la ragazza mai Se pensi a te Te pensi a te Io ti ho dedicato a Don Peppino che è il più bravo signore di tutti quanti. Grazie, come ti chiamo? Io mi chiamo Tonino. Tonino? Sì. Bravo. E' piaciuto? Sì. A poterci una tavola? Sì. Don Peppino, è meglio per lei, ci ha fatto matto tanto per la vera. Don Peppino, chiedici tu, a sti quattro sconacciate, caccelo po'. Magicamente, che hai detto? Che vada fatta? Ci ha fatto matto tanto per la vera, Don Peppino. Fini, le ho fatto su corona e la partiglia. Vabbè. Ma tu nel costa curta, dove faccio sinistra, cento per i parenti, costo aceto per il massaro, e tirano la balla e fuori. Di questo, dal Paesto da Liglietti. Stiamo giuuti a quarenticinque minuti di pirates, quindi da Liglietti, da Liglietti, sempre venireci a otto le l стали zero. E faccio i corti tacconi, costo aceto per il fan master, e ora vanno a massaro, cento per i pareti, in costa culta. E sei fatto per sicari ragazzi, per i martin, costo aceto per i porti... E no via e custati. Ma dai, dai... Don Beppe, salutiamo Nicola, magari vi faccio dire una bella poesia. Don Beppe, la poesia che stavamo dicendo prima. Nicola, noi vi abbracciamo e vi ringraziamo per la telefonata. Nicola, salto pure. Buonasera. Pronto? Pronto? Sì. Don Beppe, buonasera. Buonasera. Sono Luigi da Ercolano. Buonasera, signor Buonasera. Vabbè, la prima volta che chiama è molto difficile prendere la linea. No, veramente, buonasera. Dite. Dite voi, dite. No, cioè, sono dalle 10 e un quarto. Eh, vabbè, non va niente, l'avete riuscito e non ho fatto. Cioè, vabbè, io per questa sera non sono andato a lavorare, non è mi sono messo sulla radio, se per pura combinazione vi ho... Aspettate, mio signor. Prego, prego. Pronto? Pronto? Sampino, è ci sono di bene. Buonasera. Prego, prego. Prego, canale, prego. Prego, canale, prego. è positivo è positivo freca al canale freca al canale freca al canale vai sul 3 freca al canale nel mistero della notte è positivo freca al canale per il mistero della notte, per il canale prositivo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.